Qualcuno in municipio aveva sbagliato e qualcuno fuori dal municipio non aveva pagato il giusto. E' questa, in estrema sintesi, la sostanza della sentenza del Consiglio di Stato sull'antica faccenda degli oneri di urbanizzazione in Salsa Bassanese. Antica sì, attenzione, ma dai corollari attuali potenzialmente molto importanti. La vicenda era iniziata nel 2013, quando l'allora assessore all'urbanistica Mauro Beraldin aveva scoperto che i conti degli uffici non tornavano. In Soldoni sugli oneri di urbanizzazione c'erano delle difformità di calcolo riguardanti i parcheggi interrati, per i quali alcuni tecnici applicavano una liquota del 60% e altri una del 100%. Beraldin aveva fin da subito sostenuto la necessità di applicare quest'ultima, ma ne era nato un contenzioso politico e legale che è stato virtualmente chiuso proprio dal Consiglio di Stato con la sentenza di pochi giorni fa. Insomma, come dicevamo, qualcuno aveva sbagliato e qualcuno non aveva pagato il giusto. Proprio Beraldin commenta così la sentenza. La giustizia è lenta, però alla fine è arrivata una sentenza molto importante per la città, perché consente alla città di recuperare risorse importanti, perché dà riconoscimento a chi ha lavorato bene per aver lavorato bene e sostanzialmente rende un po' di giustizia a tutti quei cittadini che avevano pagato il giusto. Questo vuol dire, però, che tante pratiche erano state evase seguendo un criterio non del tutto corretto, il che vuol dire, tagliando corto, tanti soldi che non sono entrati nelle casse comunali. C'erano tantissime pratiche pagliate e sostanzialmente tutti i tecnici lavoravano in maniera diversa e non mancava il controllo, insomma, che stava in capo il dirigente e non erano state adeguate le tabelle regionali, insomma, e quindi tutto questo ha comportato un enorme lavoro di controllo e di verifica che ha portato appunto oggi ad avere alla città questo recupero di soldi molto rilevante. C'è da capire quali somme siano da recuperare eventualmente, come recuperarle e verificare se ci siano state transazioni oppure se siano stati conclusi accordi bonari fra pubblico e privato. Oggi il Comune deve attivarsi per recuperare ancora le somme che ci sono da recuperare, per far sì, insomma, anche di avere, come dire, un minimo di riconoscimento per i costi che ha avuto per questa operazione, perché ci sono avuti molti anni di lavoro, di impiegati pubblici e anche per il fatto che incassare milioni di euro con 10-15 anni di ritardo non è la stessa cosa di averli incassati a suo tempo. Lo tsunami di questa sentenza è però appena partito e anche il Comune è stato informato solo pochi giorni fa, quindi è plausibile pensare che il domino si metterà in moto nelle prossime ore.